Ciao Popolo Blu Arringato, sono il Presidente Massimo Ferrero e ho avuto un'idea che è bellissima, come la Santa Noia. Ora vi spiego bene. Regina, mi mandi la musica? Grazie. Doria Land. È fatta, dai. È più fatta di me, signori. Doria Land. È un palco divertimento stile Sampdoria. È bella, è bella. Guardate il progetto è già finito. Come è fatto bene. Non lo dite a nessuno, è perché stiamo ancora a lavorare. Stiamo a lemare gli ultimi dettagli. Che qui viene un capolavoro. Scusate, sono mezzo fatto come è Doria Land. Allora, vi devo dire alcune cose che ci stanno. Intanto, beh, è importante ci sarà Doria Land. C'è il chiosco del negozio con gli articoli da Sampdoria. Tutti a prezzi facili, bassi per tutti, come per esempio lo polsino da Sampdoria. Soli 15 euro, bello. Un bacione a tutti i tifosi della Sampdoria. Beh, è un popolo brungadato che mi ama. Mi ama, io so che ci stanno i cori per me. E mi piacciono sempre quando lo stadio lo cantate. Io sono, ci sarò, e c'ero, e viva Ferreo. È bello per me quando mi vuol dire. Mi sento tutto casato, dai. Dai, popolo bluscio, anche hai nato. Che l'anno prossimo vinciamo la Champions League tutti insieme. Manco ci siamo. E vabbè, vinciamo il campionato, dai. Allora, tornando a Doryaland. E ci sono anche gente che lavora. Vediamo, lavoro alla gente della città di Santa Noria. Ci saranno, visto che è un Luna Pork, ci saranno i maiali che lavorano tutti con la maglia d'Argeno. Poi, beh, a me piacciono un sacco i cori. Sapete, io ho imparato a studiare matematica grazie alla Santa Noria. Da piccolo facevo i numeri con le rime. Dicevo sempre, uno, due, tre, ti fa doi anche te. Quattro, cinque, sei. A Santa Noria sei, ok. A me mi date due pavoni quelli così per le mani e mi metto a fare la ragazza pompina. E beh, dai. Cioè, è bello così. Poi, voglio imparare due stemma da Santa Noria. È bello. L'avete fatto voi, tifosi, in memoria di Mede Ferrero. È bello. Cioè, mi piace questo uomo bello, muscoloso. Anche se si vede solo la fascia che si fuma la pipa. Anche se io mi fumo le canne. Ragazzi, che cosa mi dite la pipa? Io mi fumo le canne. Però mi piace questo stemma con l'uomo. E i capelli lunghi che so io. Ma siete belli. Voi santoriani siete una meraviglia di persone. Siete. Io vi amo, vi amo. A me piace di più lo stemma da Roma perché c'è sta upa con queste zinne da fuori che è bella. Dai, però, anche lo stemma da Santa Noria è proprio bello. Mi piace, mi piace. E poi c'è da dire anche che a Dorieland voglio fare un stadio. Qua dietro dove c'è sta il mare ci mettiamo uno stadio gonfiabile di quelli che soffi, soffi e poi pian piano si gonfia. Tutti insieme ce la possiamo fare, popolo blu gallatato. Dai, eh, facciamolo tutto insieme. Ciao, iscrivetevi al canale YouTubolo. Ciao. Ciao.